Il Tribunale Amministrativo di Puglia ha bocciato il ricorso presentato da un finanziere non vaccinato in servizio a Bari. Per i giudici prevale la tutela della salute pubblica. Alba Di Palo. Il TAR della Puglia ha rigettato il ricorso di un finanziere addetto ai servizi di vigilanza doganale nel porto di Bari, sospeso dal lavoro il 3 gennaio perché non vaccinato contro il Covid. Il diritto a non essere vaccinato non ha valenza assoluta, ne può essere inteso come intangibile, dovendo essere correlato e contemperato con gli altri fondamentali interessi pubblici, motivano i giudici, evidenziando che ci sono quelli attinenti alla salute e a circoscrivere l'estendersi della pandemia. Secondo i giudici il ricorso è infondato perché la previsione dell'obbligo vaccinale, anche per il personale di polizia, si colloca razionalmente tra le misure introdotte dal legislatore per assicurare lo svolgimento dell'attività, in condizioni tali da ridurre al massimo il concretizzarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica. Inoltre, la volontà di praticare proprie convinzioni ideologiche, etiche o religiose per i giudici non può affermarsi sino a invadere il labile confine che tutela i diritti fondamentali della collettività e individuali al tempo stesso. In questo quadro, si legge nella sentenza, la sospensione della retribuzione costituisce una conseguenza naturale dal mancato servizio prestato e proprio la mancata risoluzione del rapporto di servizio conferma che il legislatore ha adottato una soluzione bilanciata che media tra il contenimento della pandemia e la tutela del lavoro. Del resto, il depotenziamento degli strumenti, come il Green Pass, con la campagna vaccinale ancora in corso nell'attuale fase, non del tutto superata di emergenza pandemica, creerebbe, concludono i giudici, un vuoto regolativo capace di produrre gravi conseguenze sul piano della salvaguardia della salute dei cittadini.